ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale youtube dental care un canale in cui parlo di argomenti soprattutto di odontoiatria a scopo divulgativo ed informativo in questo video vi parlerò di alcuni piccoli principi di radiologia odontoiatrica soprattutto per assistenti alla poltrona è chiaro che tutto ciò che fate al corso che studiate e tutto ciò che fate poi anche a tirocinio nella vostra pratica clinica ovviamente è prioritario a molta molta più importanza rispetto a questo video che vuole invece fornirvi qualche piccola informazione aggiuntiva può essere un semplice strumento di confronto ovviamente prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale in modo tale che tu possa sempre rimanere aggiornato su tutti i contenuti che pubblico ho fatto altri video di ausilio per il corso aso sul mio canale li trovate nella playlist specifica ma parlo anche di tanti altri argomenti in ambito odontoiatrico le radiografie dentali ovviamente sono di fondamentale importanza permettono di osservare infatti tutto ciò che non è visibile ad occhio nudo quello che noi non vediamo appunto quello che c'è sotto l'osso noi non possiamo vederlo tutto ciò che c'è sotto un dente dentro l'osso eccetera eccetera quindi permettono di osservare le carie alcune carie ovviamente sono anche visibili ad occhio nudo ma altri tipi di carie per esempio quelle tra un dente e l'altro senza una radiografia avremo più difficoltà a riscontrarle clinicamente permettono anche di mettere in evidenza dei problemi all'apparato di sostegno del dente quindi dei problemi parodontali dei danni ossei delle lesioni a carico della radice del dente dei problemi all'interno del canale radicolare dei tumori delle cisti o anche degli ascessi il decreto legislativo 187 del 2000 ovviamente sancisce il fatto che l'aso ovviamente non possa fare le radiografie sebbene l'aso non possa eseguire le radiografie questo non significa che non debba capire non debba conoscere i principi di radiologia odontoiatrica perché appunto deve conoscerli in quanto deve assistere il medico molto spesso nel fare ciò e quindi deve supportare l'odontoiatra e deve conoscere anche l'importanza sia diagnostica ma anche medico legale che questo tipo di operazioni di procedure hanno andando subito nel pratico quando vengono eseguite le radiografie in odontoiatria per diagnosticare carie se dobbiamo fare una devitalizzazione quindi una terapia endodontica in virtù di una riabilitazione protesica fissa per valutare le condizioni dei denti pilastro per capire se sono appunto dei pilastri effettivamente validi per la protesi o meno in virtù di estrazioni dentali non si può estrare un dente se prima non si fa appunto una radiografia perché bisogna sempre vedere cosa c'è sotto se ci sono delle cisti e dei tumori in alcuni casi questi si riscontrano all'opt alla panoramica dei denti che è questa che vedete in questa foto ma poi va tutto approfondito con un attack per fare un esame particolare si richiedono radiografie in ortodonzia questo esame particolare la teleradiografia laterolaterale sulla quale si va ad eseguire praticamente la cefalometria quindi si fa una radiografia del cranio del bambino di profilo su questa poi radiografia in cui si osserva il cranio di profilo l'odontoiatra va a fare delle misure va a misurare diciamo dei piani degli angoli eccetera eccetera e riesce a prevedere come andrà la crescita di quel paziente se tenderà alla terza classe se tenderà alla seconda all'open bite al deep bite eccetera 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 le radiografie vengono anche richieste per eseguire gli impianti dentali in particolare per gli impianti si va a valutare con un attack con bin lo spessore dell'osso quindi l'osso nelle tre dimensioni e poi si richiede diciamo una radiografia un esame radiografico per vedere i livelli di osso nella malattia parodontale queste diciamo che sono le principali indicazioni alla richiesta di una radiografia in odontoiatria qual è l'importanza legale abbiamo visto l'importanza diagnostica delle radiografie in odontoiatria ma qual è l'importanza legale ovviamente la radiografia rappresenta un documento permanente conferma quelle che sono le cure effettuate e va a dimostrare l'eventuale esecuzione secondo scienza e coscienza quindi non deve essere eseguita però solo per tutela legale ma ovviamente devono esserci anche i principi di giustificazione di ottimizzazione della dose cioè deve avere un senso diagnostico farla un senso diagnostico che deve rientrare in quei punti diagnostici che vi ho detto prima quindi carie terapie endodontiche protesi estrazioni dentali cisti e tumori cefalometrie impianti dentali e malattia parodontale deve comunque appunto rientrare in questi principi altrimenti non ha senso farla per quanto tempo devono essere conservate le radiografie per almeno dieci anni e ovviamente se il paziente le richiede devono essere consegnate per fare le radiografie ricordatevi sempre che il paziente deve firmare quello che è il consenso informato non posso scendere nei dettagli nello spiegarvi che cos'è il consenso informato in questo video magari se siete interessati e fatemelo sapere qui sotto nei commenti posso fare proprio un video a parte sul consenso informato ma adesso per chiudere il video gli ultimi cinque minuti scarsi vi andrò a parlare in maniera molto semplice magari per un naso che è ancora all'inizio eccetera eccetera di quali sono i principali esami radiografici che vengono appunto utilizzati nella pratica clinica odontoiatrica abbiamo due tipi di esami di odontoiatria in generale ma anche in medicina gli esami di primo livello e gli esami di secondo livello gli esami di primo livello sono come dice il nome stesso intuitivamente e logicamente quegli esami che vengono richiesti come esami di base nel momento in cui però agli esami di base abbiamo dei piccoli dubbi l'odontoiata dei piccoli dubbi va a prescrivere quelli che sono gli esami di secondo livello che appunto sono degli esami di maggiore approfondimento tra gli esami di primo livello abbiamo appunto le radiografie intra orali e le radiografie extra orali tra poco andremo a vedere quali sono le intra orali e le extra orali tra gli esami di secondo livello maggiormente prescritti in odontoiatria abbiamo la TAC e la risonanza magnetica andiamo a vedere quelli di primo livello intra orali quelli di primo livello intra orali anche chiamati end orali praticamente sono degli esami in cui la pellicola radiografica viene posizionata nel cavo orale per questo motivo prendono il nome di intra orali o end orali tra questi abbiamo appunto la radiografia periapicale che praticamente va a prendere la zona più bassa la punta della radice del dente in buona sostanza le bite wing o interprossimali che appunto vanno a prendere la zona diciamo di contatto tra due denti e poi quelle occlusali invece che vanno a prendere appunto la regione della corona del dente è chiaro che le periapicali devono per essere valide andare a mettere in evidenza il dente più l'area attorno all'apice del dente e quindi devono essere visibili eventuali terapie svolte devono essere visibili eventuali aree di radiotrasparenza come per esempio cisti o tumori per aree di radiotrasparenza intendiamo quelle aree più nere se per esempio vedete questo apice di questo dente per esempio ha un'area di radiotrasparenza quest'area di radiotrasparenza è suscettibile di una cisti periapicale oppure di un granuloma dentale in buona sostanza una periapicale deve mettere anche in evidenza delle fratture eventuali fratture alla radice o per esempio delle perdite di osso nella malattia parodontale o dei denti inclusi delle carie e poi deve anche mostrare i canali radicolari come vedete in questa radiografia periapicale praticamente sono messi in evidenza i canali radicolari le bitewing invece sono tipo così per intenderci non vanno a mostrare gli apici radicolari ma la porzione di corona del dente e va a facilitare l'odontoiatra e permettere di identificare eventuali carie interprossimali cioè tra un dente e l'altro tartaro interprossimale cioè tartaro tra un dente e l'altro e poi anche il livello di osso il livello della cresta alveolare come vedete qui l'osso lo vedete il livello di osso le radiografie invece extra orali di primo livello quella per eccellenza è l'OPT ortopantomografia cioè anche chiamata panoramica delle arcate dentali non è altro che un esame di screening dell'odontoiatria che permette di osservare i denti e tutte le strutture anatomiche annesse cioè come dicendo me stesso panoramica ci dà una panoramica generale della situazione della bocca tuttavia ha un coefficiente di ingrandimento rilevante tra il 15 e il 30% e chiaramente ricordatevi anche che non si riesce sempre a vedere proprio tutto in alcuni casi bisogna andare a fare le endorali che vi ho fatto vedere prima considerate che sia le endorali che l'OPT sono chiaramente delle immagini bidimensionali di una struttura tridimensionale quindi è una foto piatta di una struttura tridimensionale che è rappresentata dall'osso, dai denti eccetera eccetera quindi è chiaro che molto spesso bisogna valutare il tutto tridimensionalmente soprattutto in caso di impianti andando ad eseguire una TAC però noi da un OPT che è un esame veramente utilissimo in odontoiatria molto spesso solo con un OPT si può lavorare possiamo avere già tantissime informazioni adesso non scendo nel dettaglio nello spiegarvi l'anatomia radiologica che cosa si va a vedere all'RxOPT che cosa ci permette di vedere un RXOPT e quant'altro altrimenti il video diventerebbe troppo lungo però se siete interessati fatemelo sapere nei commenti che vi faccio un video di anatomia radiologica solo dell'RxOPT che cosa si può osservare e quant'altro tra gli altri esami extraorali di primo livello che vengono richiesti in odontoiatria abbiamo quella che vi ho accennato prima cioè la teleradiografia laterolaterale per la cefalometria in ambito ortodontico tra gli esami di secondo livello abbiamo praticamente la TAC e anche la risonanza magnetica ovviamente anche qui non scendo troppo nei dettagli ma per quanto riguarda la TAC si utilizza soprattutto in caso di riabilitazioni implantari per vedere l'osso nelle tre dimensioni dello spazio e usa raggi X così come le endorali e le OPT si utilizzano raggi X quindi il paziente prende radiazioni ricordate sempre il grembiule di piombo di fondamentale importanza per la protezione del paziente ma questo non è un video sulla radioprotezione inoltre la risonanza magnetica invece non utilizza raggi X ma campi elettromagnetici e viene richiesta in odontoiatria soprattutto per problematiche neatologiche come per esempio valutare la forma e la posizione del disco o menisco articolare andiamo a vedere adesso un altro piccolo aspetto cioè per eseguire le endorali praticamente si vanno a utilizzare diciamo con il tubo radiogeno i cosiddetti centratori l'uso dei centratori è di fondamentale importanza ma ovviamente in questo video non vi vado a parlare di cosa sono i centratori nello specifico e a che cosa servono perché questo lo vedremo appunto nei prossimi video quindi rimanete connessi sintonizzati tra virgolette sul canale perché a breve farò anche un video che sarà appunto una specie di piccola guida sull'utilizzo dei centratori in ambito odontoiatrico io per adesso li saluto perché avevo raggiunto i 12 minuti ed è già abbastanza spero che il video ti sia piaciuto ricordati mi piace condivisione del video con altri tenti in modo tale da far crescere sempre di più questa community e ci vediamo al prossimo video ciao